Il Natale è nascita, ma può essere anche rinascita se a festeggiarlo sono i pazienti del Renzulo Centro di Riabilitazione a Sarno che, arrivati qui privi di speranza nel percorso verso il ritorno ad una vita normale, hanno fatto conquiste e passi da gigante anche quando la vita li aveva fermati. La storia era morta, ma non è che sto vivo, faccio tutto e tutto di più. Adesso non ci doveva essere più, sto vivendo di nuovo, di questo che posso ottenere. Devo solo ringraziare il Centro di Riabilitazione, perché io prima non camminavo proprio, stavo nel letto. Adesso sto camminando da solo. Nello Renzulo, grazie a lui che mi trovo qua, perché non avevo idea di avere un centro così vicino. Dai dottori ai fisioterapisti alle educatrici, veramente mi trovo bene. Questi due pazienti fanno parte dei degenti che al Renzulo Centro di Riabilitazione di Sarno usufruiscono del regime di semicombitto, un approccio globale e multidisciplinare che consente ai pazienti di riacquistare il più possibile autonomia. Per accedere al semicombitto presso il Renzulo Centro di Riabilitazione c'è bisogno innanzitutto di una prescrizione da parte dell'ASL che indichi in un progetto riabilitativo individuale le necessità e i bisogni del paziente. Una volta che il paziente ha ottenuto questa prescrizione viene al centro dove un'equip multidisciplinare valuta le necessità e i bisogni del paziente e redige un nuovo piano terapeutico che può essere uguale o modificato rispetto a quello dell'ASL. Dopodiché si fa autorizzare la pratica e inizia il percorso. Buon Natale a tutti!